Buongiorno da FT Online, avvio in certo questa mattina per la borsa, tanti temi sul piatto mercati che non sanno bene che strada seguire, ci sono alcune novità sul fronte dei dati macro da guardare con attenzione, ad esempio è uscita ieri questo report dell'associazione industriale dei semiconduttori che mostra un netto calo a livello di vendite sia mese su mese che anno su anno, vedete questo qui è il grafico che poi abbiamo riportato anche sulla nostra pagina Facebook in versione più ingrandita, cosa è più facile da vedere, questi sono in blu i ricavi del comparto, vedete come negli ultimi mesi sono scesi in maniera drastica e in rosso invece la curva che presenta la variazione percentuale sull'anno, quindi praticamente un settore che ormai da alcuni mesi vive in una fase di ritirata, è evidente che se andiamo a guardare in particolare i dati sulle Americhe che parlano di una riduzione delle vendite del 13% su base mensile, del 23% su base anno, ci si rende conto di quanto sia importante il calo del comparto, un calo che non ha impedito però anche ieri al Nasdaq di mettere a segno un ulteriore rialzo, stessa cosa vediamo anche per la Borsa Italiana che questa mattina si è fermata ma che ieri si è comportata in maniera molto positiva, è uscito il nuovo report dell'Ox relativo all'Italia, anche in questo caso ci sono delle valutazioni per niente incoraggianti, questa qui è la figura che riporta l'andamento del PIL pro capite che resta fermo ai livelli di 20 anni orsono, nella lista del PIL pro capite l'Italia è addirittura negativa ed è il peggiore dei paesi dell'Ox, mentre la media Ox l'Italia è a meno 5, la media Ox è a più 25, più 27 circa. Anche in termini di andamento del PIL, vedete questa è la curva del PIL, variazione su base trimestrale, come ben sappiamo l'Italia è ritornata al di sotto dello 0%, le aspettative dell'Ox sono per una contrazione dello 0,2% nel 2019, per un ritorno alla crescita del 2020 ma limitata allo 0,5%, il deficit è atteso al 2,5% nel 2019 per poi ridimensionarsi dal 2,1% nel 2018 e ovviamente tutto questo senza, diciamo nelle ipotesi che venga evitata l'attivazione delle clausole di salvaguardia, perché in quel caso probabilmente si andrebbe a sforare tranquillamente il 3%. Questa è la composizione del PIL per il 2018 e il 2019 con un rapporto deficit PIL che dovrebbe salire al 134% dal 132% dello scorso anno quest'anno e al 135% addirittura nel 2020, quindi una crescita del rapporto debito PIL che non accenderebbe a fermarsi. In un contesto difficile per l'economia come quello che abbiamo presentato, uno si aspetterebbe di avere le borse in grave difficoltà e invece quello che abbiamo visto anche negli ultimi giorni è sostanzialmente una crescita perlomeno dei panieri che sono maggiormente in evidenza come quelli americani e quelli europei, ma anche sul fronte del Far East ci sono stati rialzi interessanti. Oggi volevo parlare di uno strumento che citiamo spesso sia nei nostri video che nelle nostre analisi, secondo me è uno degli strumenti più interessanti che ci mette a disposizione l'analisi tecnica e che è di grande aiuto in queste fasi in cui il mercato si muove in una maniera che forse non è congrua con quello che è l'andamento dei dati macroeconomici e delle aspettative su fronte all'andamento dell'economia e che ci permette quindi magari di fare una, diciamo di guardare l'andamento dei grafici con maggiore obiettività evitando di farsi prendere appunto dalle emotività che potrebbe derivare dallo studio della situazione, del contesto generale. Questo strumento è quello dei rifiacciamenti fibonacci, coadiuvato anche dalle fibonacci fanlines, vediamo rapidamente di che cosa si tratta, come si usano questi strumenti e che cosa ci dicono per la situazione attuale. Per capire che cosa sono i rifiacciamenti fibonacci dobbiamo innanzitutto ragionare un attimo su come si muovono i mercati, questo qui è il nostro grafico del Nasdaq composito dai minimi del 2016 ad oggi, vedete possiamo dividere l'andamento del mercato sostanzialmente in due fasi principali, c'è stata una fase continua di crescita da 2016 al 2018, poi una correzione, quindi una fase contraria all'andamento del trend principale e una nuova fase di rimbalzo. anche all'interno della nostra fase crescente, quella che era partita dai minimi del 2016 e che in una descrizione statistica del trend avremmo come una tendenza continua di rialzo, questa è la retta di regressione calcolata per tutta la fase rialzista, vedete anche durante quel movimento però ci sono state delle alternanze tra movimenti di crescita e fasi di storno che vengono chiamate in analisi tecnica di ritracciamento. Fino a che il ritracciamento si mantiene nell'ambito di una certa percentuale di ritorno, si parla di correzione, quando questa percentuale di ritorno viene superata si può invece iniziare a parlare di una fase di inversione, come si utilizzano i ritracciamenti Fibonacci. Immaginiamo di voler studiare questa fase che si era sviluppata a partire dai minimi dell'inizio del 2016 e che poi era stata interrotta dalla fase di ripiegamento che avevamo visto nel mese di maggio, nel mese di giugno di quell'anno. Se andiamo a zoomare su questa fase possiamo fare il calcolo dei ritracciamenti e come si fa questa operazione semplicemente si prende l'ampiezza del movimento di rialzo che ci interessa studiare e la suddividiamo in base a determinate percentuali che sono ricavate dalla successione di Fibonacci. Quindi questo è il rialzo che ci interessa scomporre. A un certo punto questo rialzo come abbiamo visto è stato interrotto, magari possiamo esserci in accorti perché ad esempio è stata violata la media esponenziale a 50 giorni, vedete nel momento in cui la media esponenziale a 50 giorni è stata violata viene il dubbio che la tendenza crescente che c'era stata dai minimi di febbraio ai massimi di aprile fosse stata messa a rischio. Allora che cosa facciamo? Noi calcoliamo i nostri ritracciamenti dal minimo al massimo perché quello che ci interessa è quanto il mercato sta ripercorrendo di quello che era il movimento iniziale e ci accorgiamo che la prima fase di ribasso, ossia quella terminata nel maggio di quell'anno, aveva ripercorso il 38,2% del movimento precedente, quindi dal minimo al massimo abbiamo tracciato i nostri ritracciamenti che sono composti da queste percentuali che come ripeto sono ricavate dalla successione dei fiumalaci, il 23,6%, il 38,2%, il 50%, il 61,8% e molto spesso si usa anche il 78,6% che rappresenta un po' l'ultimo gradino prima di tornare sul 100%, quindi prima di ripercorrere interamente il movimento. Che cosa è successo? Abbiamo visto che c'è stata una prima fase di storno, un rimbalzo e con la seconda fase di storno siamo passati dal 38,2% al 50%, vedete in questo caso il primo dei ritracciamenti 38,2% è stato toccato in due occasioni, il 50% è stato toccato in un'occasione e siamo poi ripartiti a rialzo, se i prezzi fossero scesi al di sotto del 50% ci saremmo dovuti aspettare un test del 61,8%, in caso di violazione 61,8% avremmo dovuto immaginare un test del 78,6%. Il ragionamento che si fa quindi è un ragionamento per gradi, per step, ogni volta che una linea di ritracciamento viene superata nel caso di ritracciamenti di un rialzo, quindi ogni volta che una linea di ritracciamento viene superata al ribasso, ci si aspetta che i prezzi muovano verso il livello successivo della nostra scala dei ritracciamenti. Questo tipo di andamento che si è visto in questa fase non è assolutamente un andamento anomalo, sappiamo bene che le correzioni si sviluppano molto spesso in tre segmenti, o perlomeno questo è quello che ci dice la teoria di Elliot, queste correzioni possono essere di forma flat, quindi avere un andamento sostanzialmente laterale, molto spesso il flat è però irregolare, quindi non c'è uguaglianza tra, come nella forma canonica, non c'è uguaglianza tra il primo e il terzo movimento, quindi tra l'onda A e l'onda C della nostra successione di movimenti, ma il terzo movimento estende rispetto al primo in ragione delle proiezioni di Fimonacci, quindi in questo caso abbiamo visto nella nostra fase correttiva un flat irregolare, quindi niente di strano rispetto a quello che ci dice la teoria. Vediamo adesso, dopo aver capito come sfruttare questo strumento su un esempio nel passato, andiamo a vedere che cosa è successo poi nel corso del periodo più vicino a noi, ad esempio andiamo a capire quanto sia stato grave in termini di ritracciamenti il ribasso che abbiamo visto dai massimi dello scorso anno, se andiamo a calcolare i ritracciamenti dai minimi del 2016 ai massimi del 2018, ci accorgiamo che questa fase correttiva che ha una natura diversa rispetto a quella che avevamo visto nel 2016, perché invece di essere orizzontale è inclinata verso il basso, quindi non sarà un flat in termini di onde di Elliot, ma sarà uno zigzag, quindi avrà avuto poi una forma di questo tipo, quindi anche qui rimaniamo nei canon di quello che ci insegna la teoria. Vedete questo zigzag correttivo che cosa ha fatto? Ha ritracciato il 50% del movimento precedente per poi ripartire a rialzo, quindi ogni volta che anche in questo caso è stato rotto un gradino, quindi è stato superato prima il 23,6%, i prezzi sono scesi al 38%, non si sono fermati su questo gradino, si sono fermati su quello successivo, dove hanno ripreso a salire? Immaginando di dover seguire questo mercato in una logica di trading, tutte le volte che veniva violato un supporto avevamo un segnale di debolezza che ci accompagnava verso il supporto successivo, visto che il 50% non è stato violato e da quei livelli è partito poi un rimbalzo, ancora una volta utilizzando ad esempio lo strumento del mediemobile, potevamo decidere se era significativa la fase di ripresa o se invece si trattava sempre di un ulteriore dente della fase ribassista che poi avrebbe potuto introdurre ad un nuovo calo e alla violazione magari anche di un altro livello di ritracciamento. Il rimbalzo dal 50% a un certo punto ha superato la nostra media mobile esponenziale a 50 giorni, vedete la media è stata toccata con precisione per alcune sedute, poi i prezzi si sono spinti a rialzo, a quel punto aveva senso andare a calcolare i ritracciamenti della nostra ultima fase ribassista per capire che cosa stava succedendo e qual era la portata del nostro rimbalzo. Il primo dei ritracciamenti che era il 23,6% è stato toccato quasi subito dai prezzi, vedete ci sono state tre sedute in cui i prezzi hanno tentato a superare questo primo gradino, dopo un po' di tentennamenti ci sono riusciti, sono saliti sul secondo gradino che è quello del 38,2%, anche in questo caso ci sono stati un po' di tentennamenti, vedete quattro sedute in cui i prezzi hanno oscillato attorno alla resistenza, una volta superata questa resistenza c'è stato il raggiungimento del gradino successivo che è quello del 50%, anche in questo caso toccato con precisione il 18 di gennaio c'è stato anche in questo caso un po' di lotta e i prezzi sono poi saliti con il rialzo che abbiamo visto dal 30 di gennaio al 5 di febbraio a toccare il 61,8% di ritracciamento. In questo caso quindi è molto bello l'esempio che stiamo guardando perché vedete ogni livello di ritracciamento è stato significativo durante la fase di rimbalzo, il ragionamento che era da fare in termini di trading era che ogni volta che veniva superato un livello di resistenza si poteva comprare con un target sul livello di resistenza successivo, quindi sul livello di ritracciamento successivo. Superato il 61,8% andiamo ad aggiungere il nostro 78,6% vedete che anche il 78,6% è stato non solo raggiunto ma anche superato dai prezzi e ieri c'è stata una nuova accelerazione al rialzo, a questo punto diciamo che diventa probabile il proseguimento della scalata dei prezzi fino al 100% che sarà quindi il massimo dal quale proveniamo che è il massimo di agosto scorso anno 8133 punti. Attenzione perché questa situazione potrebbe riproporsi poi un tipo di correzione simile a quello che avevamo visto nel 2016, per questo ve l'ho evidenziato, vedete questa correzione tipo flat, come si sviluppa? si sviluppa con una prima fase ribassista che sarebbe il nostro movimento di ribasso, una seconda che abbiamo visto fino ai minimi dello scorso anno, una seconda fase di ripresa che ritraccia praticamente per intero il movimento precedente, ma poi c'è il rischio che in caso di mancato superamento del movimento precedente parta una nuova fase ribassista che addirittura può anche andare, come era successo nel 2016, a violare i minimi dai quali è partito il rimbalzo. Quindi diciamo che dalla lettura con i ritracciamenti Fibonacci possiamo ipotizzare che a questo punto i prezzi tentino di salire almeno sui massimi dello scorso anno, però attenzione nel caso in cui questa quota venisse avvicinata perché non è detto che ci sia necessariamente la rottura, anzi potremmo essere in questa fase nell'intermezzo di una terna correttiva più complessa che dal test di area 8100-8150 potrebbe lasciare spazio nella nuova fase calante. Questo è l'esempio del Nasdaq, a questo punto possiamo procedere una volta che abbiamo fatto questo ragionamento anche con gli altri mercati che riteniamo siano interessanti in questo momento. Partiamo ovviamente con il nostro Futsimib, in questo caso guardiamo il future visto che come sappiamo sul mercato italiano, ma anche ad esempio sull'Eurostox, il calcolo dei dividendi è leggermente diverso tra indice e future, nel senso che nel caso dell'indice questi vengono sottratti alle quotazioni nel giorno dello stacco, mentre nel caso del future il calcolo dei dividendi è già incluso nel momento del cambio del contratto, adesso siamo con il contratto di giugno e quindi sono già inclusi nei prezzi, nelle quotazioni del future i dividendi che verranno pagati fino a quella scadenza. Andiamo a guardare anche in questo caso che cosa è successo in passato, abbiamo avuto un rialzo nel corso del 2016-2017 e prima parte del 2018, a un certo punto questo rialzo si è interrotto, anche in questo caso i segnali ce l'hanno dati nelle nostre medie mobili, la 50 esponenziale, ma magari anche si possono poi utilizzare tutte quelle più comuni, dalla 50 alla 100 alla 200, vedete nel momento in cui le medie vengono via via infrante, addirittura in questo caso abbiamo visto anche l'incrocio ribassista tra la 50 e la 200, possiamo pensare che la tendenza di fondo si sia interrotta nel momento in cui abbiamo dei segnali, in questo senso andiamo a valutare quanto sia grave il momento della fase di risalciamento che stiamo sperimentando, perché abbiamo ormai capito che tutte le volte che si viola un gradino si scende verso il successivo e che ogni volta che abbiamo la violazione di un gradino possiamo valutare la importanza della fase di risalciamento e ovviamente più si scende verso il basso nella nostra scala più significa che la fase di storno è rilevante. Nel caso del nostro Fuzzimi vedete i prezzi sono fermati per un periodo abbastanza lungo sul 61,8% di ritracciamento, ricordo questo qui è il grafico del future, c'è stato poi una perforazione che però non ha dato luogo al raggiungimento del 78,6%, i prezzi sono in realtà invece fermati a metà strada tra questi due livelli e da questi livelli hanno ripreso a salire, a questo punto nel momento in cui è stata superata al rialzo la media mobile esponenziale a 50 giorni che poi più o meno ha dato lo stesso segnale di questa linea di tendenza, ha avuto senso iniziare a fare il nostro calco dei ritracciamenti. Vedete anche in questo caso che cos'è successo? c'è stato un primo stop sul 23,6% con il massimo del 10 gennaio, i prezzi sono poi riusciti a superare questa quota, si sono lanciati su quella successiva che il 38,2% sono stati in quest'area per un periodo di tempo abbastanza lungo, vedete circa una settimana a lottare in corrispondenza del 38,2%, superata quella quota i prezzi hanno accelerato e sono portati sul 50%, 50% di ritracciamento sul quale li troviamo anche, li abbiamo visti salire ieri, li troviamo anche questa mattina sostanzialmente, quindi area 21.000, in questo caso al ritracciamento si abbina anche la presenza di questo gap, il gap ribassista del 28 settembre, in area 21.000, 21.150, quindi c'è una forte resistenza che i prezzi hanno dimostrato di riconoscere da circa un mese che stanno cercando di superarla. Quella di ieri è stata la chiusura di seduta più alta dal 27 settembre, quindi c'è sicuramente una decisa voglia di rialzo e questo è il motivo per cui vi dicevo che questo strumento ci permette un po' di fare un'analisi oggettiva e di isolarci dai rumori e dalle voci che provengono invece dall'analisi, chiamiamo così, delle notizie, un'analisi fondamentale, perché con quello che abbiamo detto del report dell'Ox evidentemente ci sarebbe da aspettarsi una borsa in direzione decisamente opposta rispetto a quella che abbiamo visto nelle ultime sedute, invece nonostante la continua uscita di moniti nei confronti della nostra economia, per adesso la borsa continua a mantenere un atteggiamento positivo, certo è che siamo arrivati su una quota importante perché il 50% di rialzamento è forse quella che ha il maggiore valore simbolico, rappresenta un po' il punto di equilibrio, fino al 50% un mercato fa un po' fatica a salire, poi una volta superato il 50% la strada è in discesa anche se sappiamo che ci sono poi degli ulteriori ostacoli da superare che sono 61,8 e 78,6 ma la rottura del 50% molto spesso è un segnale che può essere preso pur con la necessità di avere ulteriori conferme come una decisione da parte del mercato di trasformare il movimento di correzione in una vera e propria inversione di tendenza, quindi questo test di 21.000 punti o 21.000 punti rotti è molto importante e significativo per dirci che cosa ha intenzione di fare il future nel corso delle prossime settimane, una rottura decisa di questa quota ci farebbe capire che c'è voglia di salire almeno fino a 21.750 ma probabilmente anche fino ai 22.700-800 punti, se invece area 21.000 non dovesse venire superata nel corso delle prossime sedute potrebbe emergere il rischio che da questi livelli parte una nuova fase di bassista, quindi una correzione non di tipo flat ma di tipo zigzag con il rischio di andare a fare nuovi minimi. Siamo quindi su un crinale molto pericoloso e in questa fase probabilmente per rispondere alla domanda che ho visto prima da parte di Rob che mi dice se avvicina il no deal conviene stare flat su tutta la linea, per quello che riguarda la borsa italiana fino a che questo 50% di ritracciamento non sarà alle spalle in modo netto e per dire in modo netto probabilmente la cosa migliore da fare è aspettare che ci sia la chiusura di questa settimana di sopra dei 21.000 punti o meno, con la chiusura di settimana oltre 21.000 punti direi che si possono abbandonare le strategie prudenti, si può mirare al test di area 21.800-22.000, se invece questa quota 21.000 non verrà superata in chiusura di settimana potrebbe effettivamente da questi livelli partire una fase di correzione, la stessa cosa un po' che abbiamo detto anche per il Nasdaq, si sta avvicinando un'area di resistenza che è cruciale per capire se questo movimento che c'è stato ai minimi dello scorso dicembre è solo l'intermezzo di una fase correttiva più complessa o se invece si sta partendo a rialzo con un atteggiamento di maggiore decisione. Visto che siamo ritornati al Nasdaq e abbiamo parlato prima dei semiconduttori guardiamo l'indice SOX che è l'indice dei semiconduttori del mercato di Filadelfia, anche in questo caso possiamo valutare quello che è successo in termini di ritracciamenti, vedete anche in questo caso abbiamo avuto la fase di rialzo che si è portata via via tutte le volte che veniva toccato un livello come il 23,6%, il 38,2% e il 50%, vedete c'è stata un po' di indecisione, l'ultima volta che il mercato si è dimostrato in difficoltà è stato proprio sul test del 78,6% da quei livelli era partita una fase di rifiacciamento che poi è sfociata però in una rottura della resistenza e a questo punto siamo tornati praticamente sul 100%, è questa la quota sulla quale si deciderà il destino del mercato, quindi non solo probabilmente di quella dei semiconduttori ma del Nasdaq in generale e quindi più in generale della borsa, sopra questi livelli avremmo ormai terminato, potremmo dire di avere ormai terminato la nostra fase correttiva e considerare questo movimento, la ripresa del lungo trend di rialzista precedente, la mancata rottura invece dei massimi dello scorso anno ci farebbe temere ancora una volta di essere in presenza di una correzione di tipo flat in via di sviluppo con il rischio poi di assistere a una nuova fase calante. Per adesso non ho ancora introdotto un ulteriore elemento di analisi, prima di passare allo studio di altri strumenti lo facciamo utilizzando il nostro grafico del Fuzzi Midfuture, abbiamo parlato dei tracciamenti orizzontali, esistono anche le fan line che sono i riflacciamenti che seguono l'andamento del tempo, vi spiego molto rapidamente come si disegnano queste linee, una volta calcolati i riflacciamenti per un movimento in questo caso di ribasso, nel momento in cui tracciamo la nostra serie di riflacciamenti orizzontali, ad esempio dopo come abbiamo visto il superamento di un livello di riferimento importante come la media mobile esponenziale a 50 giorni, possiamo tracciare anche il ventaglio di Fibonacci, molto semplicemente nel punto di minimo che utilizziamo per il calco dei riflacciamenti tracciamo anche una linea verticale, nel momento in cui la linea verticale si incrocia con le nostre percentuali di riflacciamento, quindi in questo caso abbiamo solo il 38, il 50 e il 61,8, vedete questi sono i punti di incrocio, dai punti di incrocio unendo i massimi che il mercato aveva toccato e che sono l'origine dei nostri riflacciamenti orizzontali, facendo partire da quei livelli una linea di tendenza che poi passa sul nostro punto di incrocio possiamo tracciare il nostro ventaglio di Fibonacci, in questo caso il programma lo fa automaticamente solo per il 38, il 50 e il 61,8, nel caso sul 61,8% del ventaglio i prezzi in questo momento si sono fermati o perlomeno si erano fermati fino all'altro giorno, fino a venerdì, ieri questa resistenza è stata saltata in modo deciso, vedete come anche il ventaglio sia stato rilevante nel corso della fase crescente, qui avevamo l'incrocio tra il 38,2% del riflacciamento orizzontale e la linea del 50% del ventaglio, vedete come entrambe hanno funzionato la resistenza per circa una settimana, a questo punto se area 21.000 venisse superata possiamo ipotizzare il raggiungimento del livello successivo del ventaglio che è quello del 78,6% e qual è la differenza ovviamente tra le linee del ventaglio che sono inclinate e le linee orizzontali? Che il valore della linea del Fibonacci fan cambia in funzione del tempo, ovvero se il rialzo è rapido la linea viene toccata prima e quindi su livelli più alti, se invece il rialzo è più lento, se fosse veloce magari la incontra qui, se invece si muove più lentamente la incontra sul valore più basso, quindi è utile questo strumento perché tenendo in conto anche la rapidità del mercato ci dà una valutazione che è un pochino più sofisticata rispetto a quella delle linee orizzontali, di solito si parte dalle linee orizzontali come strumento di analisi e poi magari si integrano con l'utilizzo dei ventagli per avere delle informazioni aggiuntive proprio che sono in funzione della rapidità della velocità di crescita del mercato. Vedete in questo caso abbiamo avuto un 50% orizzontale che è stato testato contemporaneamente al 61,8% invece della Fibonacci fan, questa linea del 61,8%. Questo che cosa ci dice? Che la crescita dei prezzi è stata forse meno rapida di quella che sarebbe stata in un mercato ideale dove la linea del 50% di risalciamento, la linea del 50% del ventaglio potrebbero essere toccate quasi in contemporanea e quindi ci suggerisce il fatto che il movimento di rialzo non ha la stessa intensità, la stessa velocità che potrebbe avere una fase impulsiva vera e propria, ad esempio se mettiamo in confronto questo movimento di rialzo con questo vediamo che la velocità di salita è diversa. Torniamo adesso all'analisi dei nostri mercati, guardiamo la situazione del DAX sempre utilizzando i nostri rifiacciamenti, dai massimi dello scorso anno ai massimi che l'indice ha toccato nelle ultime sedute, la domanda che ci poniamo è quanto sia stato esteso il rimbalzo, lo andiamo a capire subito utilizzando i rifiacciamenti, vedete nel caso in questione abbiamo avuto il 38,2% che è stato messo sotto pressione alla fine del mese di febbraio, superato quel livello, c'è stato un tentativo di andare a prendere il 50%, un tentativo che potrebbe essere ancora in corso, quindi la prossima resistenza sul DAX è quella degli 11.950 punti. In alternativa, quando siamo in presenza di una situazione di questo tipo, qui però bisogna allargare un po' il ragionamento, però diciamo che possiamo, anche senza andare a scomodare le onde di Elliot, possiamo vedere che il ribasso che c'è stato dai massimi nello scorso anno si è strutturato in tre fasi ben distinte, quindi c'è stata una prima fase calante, un secondo rimbalzo, seguito da un rimbalzo e da una seconda fase calante. Il rimbalzo ha ritracciato il 78,6% con questo massimo dello scorso mese di maggio per poi lasciare spazio a una nuova fase calante. In questo caso può avere senso nel momento in cui si distinguono delle fasi di mercato diverse, non limitarsi al test di ritracciamenti di tutto il movimento, ma anche andargli a calcolare per la fase ribassista che ha una sua autonomia, una sua dignità, che non è quella completa rispetto al movimento esteso. Quindi in questo caso avremmo due set di ritracciamenti che possiamo utilizzare in combinazione più o meno, si crea quindi una doppia griglia e possiamo valutare in questo modo magari delle strategie più complesse dove al superamento della prima linea, quindi la linea più vicina ai prezzi, iniziamo con l'aprire le posizioni che poi confermiamo magari incrementando l'assuperamento della linea del secondo set. In questo caso avremmo superato il 38,2% del rialzo dai massimi di inizio 2018, ma saremo ancora sul 50% del ribasso dai massimi dello scorso maggio. Quindi la resistenza di area 11,8 che i prezzi hanno avvicinato anche ieri si conferma importante, sopra quei livelli i target tra 11,9 e 50 e 12,100, aspettiamo magari anche in questo caso una chiusura di settimana oltre 11,7 e 50 per avere una conferma della rottura del 50% di ritracciamento. Quindi sul DAX e come sul Fuzzimib siamo in una fase importante, il mercato sta dimostrando forza, però forse manca ancora una conferma per dire che siamo ripartiti con un nuovo gradino verso l'alto. Estendiamo un attimo il nostro studio anche come abbiamo detto ai mercati asiatici, guardiamo rapidamente il Nikkei, che cosa ci dice? Ormai avete già capito come funziona, si calcola il risarciamento del movimento precedente per capire quanto il movimento attuale ha ancora spazio per salire, nel caso del Nikkei c'è stato il test del 50% di retracement già nella prima parte del mese di marzo, i prezzi hanno poi testato nuovamente questa resistenza il 22 di marzo, continua a essere rilevante la resistenza di area 21,7 anche in questo caso, però fino a che non avremo una chiusura di settimana sopra quei livelli penso che valga la pena di utilizzare prudenza perché potremmo essere con i segnali che sta dando il mercato su un punto d'arrivo del nostro rimbalzo, sopra 21,7 invece in chiusura di settimana potremmo puntare tranquillamente al test di area 22,3,50. Che cosa ci dicono quindi i risarciamenti? In questo momento per tutti i mercati che abbiamo analizzato che innanzitutto ci hanno dimostrato che funzionano molto bene come strumento per mettere sotto controllo le emotività nel momento in cui affrontiamo una situazione di mercato che non è chiaro perlomeno con dei fondamentali che sembrano andare contro a quello che è la tendenza del mercato, ci permettono i risarciamenti di continuare a seguire il nostro trend in maniera abbastanza tranquilla. Se crediamo che funzioni questo comportamento che abbiamo visto, provato diciamo dai fatti dove alla rottura di ogni gradino segue di norma il raggiungimento del gradino successivo, anche in questo caso con il Dow Jones siamo al di sopra del 78,6% quindi ci aspettiamo che area 27.000 possa essere raggiunta e il fatto che i prezzi tornino sui 27.000 punti non è però una garanzia della ripresa della tendenza rialzista di lungo termine perché come abbiamo detto potremmo essere in una di quelle situazioni dove si sviluppa una correzione tipo flat con quindi il rischio di tornare a vedere magari i prezzi che ritornano in questo caso sul 50% del retracement del movimento precedente. Vediamo se ci sono domande da parte vostra, vi ringrazio come al solito dei saluti e delle vostre domande. Per quello che riguarda la Brexit vi dico la mia personale opinione, io penso che nonostante la situazione paradossale che si è venuta a creare non sia nell'interesse di nessuno andare verso un'uscita disordinata del Regno Unito dalla Unione Europea, quindi penso che alla fine verrà concessa una prologa lunga che permetterà all'Inghilterra di partecipare alle elezioni europee e successivamente poi si vedrà magari a quel punto l'ipotesi di un secondo referendum potrebbe prendere corpo e ovviamente sempre presupponendo che il risultato del nuovo referendum sia diverso da quello precedente si potrebbe mettere in qualche modo nel dimenticatoio tutta questa situazione estremamente difficile. È evidente che se invece dovesse applicarsi una Brexit senza accordo sarebbe una situazione che secondo me sui mercati avrebbe un peso notevole perché è inutile nasconderlo, i costi per tutti i partner commerciali del Regno Unito sarebbero molto elevati. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero.